Primi 5 eventi chiave da monitorare nei mercati nella settimana a venire. Mentre entriamo nella nuova settimana, ecco i primi 5 eventi di mercato che gli investitori dovrebbero tenere sotto stretta osservazione. 1. Dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Martedì, saranno pubblicati i dati molto attesi sull'andamento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti relativi a ottobre. Questi dati forniranno preziose indicazioni sul progresso della Federal Reserve nella lotta contro l'incremento dell'inflazione sperimentato l'anno scorso. Gli economisti prevedono un aumento mensile dell'inflazione dello 0,1%. A settembre, l'Indice dei prezzi al consumo, CPI ha registrato un aumento del 0,4% a causa di un aumento inaspettato dei costi degli affitti, ma ha anche evidenziato una moderazione delle pressioni inflazionistiche sottostanti. Un raffreddamento più marcato dell'inflazione potrebbe riaccendere la discussione sulla possibile fine del ciclo di rialzo dei tassi di interesse, soprattutto alla luce delle indicazioni del rapporto sull'occupazione di ottobre, che ha indicato un allentamento delle condizioni del mercato del lavoro. Nella stessa settimana saranno resi noti i dati sui prezzi alla produzione e sulle vendite al dettaglio di ottobre, che si prevede scenderanno in territorio negativo dopo una serie di robusti aumenti mensili. Altri dati in programma includono i report sulla produzione industriale, gli inizi di costruzioni e le domande di sussidio di disoccupazione iniziali. 2. Dichiarazioni dei membri della Federal Reserve. Nel corso della settimana, gli investitori avranno l'opportunità di ascoltare le dichiarazioni di diversi membri chiave della Federal Reserve, tra cui il presidente della Federal Reserve di New York John Williams, il presidente della Federal Reserve di Chicago Austin Goseby, il governatore Philip Jefferson e il governatore Michael Barr. Questi responsabili della politica monetaria dovranno valutare la possibilità di ulteriori misure restrittive in vista del prossimo incontro previsto per il 12 a 13 dicembre. Giovedì scorso, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha sottolineato che i responsabili non sono convinti che i tassi di interesse siano ancora sufficientemente elevati per contrastare l'inflazione. Pur evitando di stringere eccessivamente la politica, Powell ha dichiarato che il più grande errore che potremmo commettere è non riuscire a tenere sotto controllo l'inflazione. Le sue parole sono state riprese dai colleghi, con la presidentessa della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, che ha dichiarato venerdì di non essere pronta a fermare se la Federal Reserve abbia completato o meno il rialzo dei tassi. Gli investitori si sono concentrati sui rendimenti dei titoli del tesoro, che hanno registrato un leggero calo rispetto ai massimi di 16 anni, cercando di capire se i tassi siano effettivamente giunti al picco e quando la banca centrale potrebbe iniziare a ridurli. 3. Relazioni sugli utili delle aziende di vendita al dettaglio. La stagione degli utili del terzo trimestre sta volgendo al termine, ma nella settimana a venire alcune importanti aziende di vendita al dettaglio dovrebbero pubblicare i loro risultati. Gli investitori saranno particolarmente attenti a queste relazioni per avere indicazioni su come si stia comportando la spesa dei consumatori. Home Depot, NYSE, HD, è prevista per martedì prima dell'apertura dei mercati, seguita da Target, NYSE, TGT, prima dell'apertura di mercoledì, mentre i risultati di Walmart, NYSE, WMT, e Macy's, NYSE, M, sono attesi per giovedì. Target ha avuto difficoltà a causa dei costi in aumento e ha ridotto le proprie previsioni, avvertendo già quest'anno che il furtarello, merci rubate, sta colpendo i suoi risultati finanziari. Al contrario, le azioni di Walmart hanno toccato massimi storici all'inizio di questo mese. Tra i nate da crescenti ricavi e profitti che hanno superato le aspettative quando sono stati riportati ad agosto. Altri rivenditori che pubblicheranno relazioni durante la settimana includono TJX Companies, NYSE, TJX, Gap, NYSE, GPS, e l'azienda cinese Alibaba. NYSE, BABA. 4. Rischio di chiusura del governo degli Stati Uniti. Il rischio di una chiusura del governo federale è incombente se i legislatori a Washington non riescono a varare una misura per finanziare almeno temporaneamente le operazioni entro venerdì. Le richieste inflessibili di profondi tagli alla spesa e di condizioni quali restrizioni sull'aborto hanno diviso i repubblicani per gran parte del 2023. Con i repubblicani moderati che spingono per un approccio più bipartisan che possa ottenere il sostegno del Senato. Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson, ha presentato una misura di spesa provvisoria repubblicana sabato scorso, con l'obiettivo di evitare una chiusura parziale del governo. Tuttavia, questo piano non convenzionale è stato rapidamente criticato da membri di entrambi i partiti. Un nuovo scontro potrebbe rinnovare le preoccupazioni sulla governance nell'economia più grande del mondo. 5. Volatilità dei prezzi del petrolio Venerdì scorso. I prezzi del petrolio sono aumentati del 2% dopo che l'Iraq ha dichiarato il suo sostegno a Italia alla produzione di petrolio dell'OPEC in vista di un incontro tra due settimane. Inoltre, alcuni speculatori hanno coperto posizioni corte e significative in previsione di incertezza durante il fine settimana. Tuttavia, i prezzi hanno chiuso la settimana con la terza perdita settimanale consecutiva, registrando un calo del 4%. Le preoccupazioni relative alle prospettive della domanda globale hanno sopraffatto i timori di possibili interruzioni nella produzione legate al conflitto in Medio Oriente. Considerando anche i dati economici deboli provenienti dalla Cina, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito della scorsa settimana. Gli operatori del settore energetico stanno guardando con attenzione all'incontro tra l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, OPEC e gli alleati, tra cui la Russia, previsto per il 26 novembre. Gli analisti ritengono che l'OPEC potrebbe ridurre ulteriormente l'offerta se i prezzi dovessero continuare a scendere. Questi eventi chiave nella settimana a venire avranno un ruolo cruciale nel plasmare il sentiment di mercato e nell'influenzare le decisioni di investimento. Rimanete informati e siate pronti ad adattarvi alle mutevoli condizioni di mercato.